La lega abolizione caccia del Trentino Alto Adige durante un recente incontro con l'assessore provinciale Michele Dallapiccola ha chiesto alla provincia di risalire agli autori di questo video. Il filmato afferma la LAC che è stato girato probabilmente in Val Nambrone il 21 maggio dello scorso anno. Gli autori riprendono da un'automobile un cucciolo d'orso, comportamento che per la lega abolizione caccia andrebbe sanzionato in quanto si configurerebbe il reato di disturbo o molestie della fauna. Nell'incontro la LAC è tornata tra l'altro a chiedere l'abolizione della delibera della provincia che prevede l'uccisione di orsi a scopo preventivo quando considerati dannosi. Grazie a tutti.